Si è svolta stamane la conferenza stampa di presentazione delle attività previste per il 2019 all'interno del Palasele di Eboli. Oltre a tracciare il bilancio dell'ultimo anno di eventi e a presentare il programma dei prossimi show, il sindaco di Eboli Massimo Cariello e il promoter Alfonso Troiano di anni 60 Produzioni hanno illustrato i vari interventi strutturali eseguiti negli ultimi anni al fine di rendere la struttura sempre più performante e accattivante per artisti e spettatori. Il 2019 sarà un anno scoppiettante, abbiamo avuto un 2018 straordinario con quasi 90.000 presenze al Palasele e il 2019 si preannuncia altrettanto significativo a livello artistico e a livello afflusso di spettatori. Partiamo con Emma il 18 febbraio, continuiamo con I Negramaro l'11 marzo, Alessandra Amoroso già sold out la prima data a marzo, ritornerà a maggio. Poi avremo i giornalisti, avremo l'ultimo che è già sold out, Fedez, Raf Tozzi e Mengoni. Questi sono i nomi per la prima parte di programmazione del 2019 del Palasele, ma dopo l'estate abbiamo già confermato delle date molto importanti che non sono ancora annunciabili, ma di artisti molto molto forti. Anche dal punto di vista strutturale cambia volto il Palasele? Il Palasele negli anni ha cambiato volto e grazie a questi interventi strutturali che ci hanno permesso di spostare un po' il mercato dalla zona centrale della Campania, che è Napoli-Caserta, dalle due strutture dove si fanno altri concerti del genere, che sono il Palamaggio a Caserta e il Palapartenope a Napoli. Grazie a questi investimenti, al Mother Grid che abbiamo montato nel 2014, abbiamo la possibilità di ospitare le produzioni, la tecnologia attuale che è molto molto pesante, ha bisogno di una grande struttura, quindi chi viene a vedere al Palasele uno spettacolo vede lo stesso spettacolo che potrebbe vedere a Milano, a Torino, a Bologna. Questa è la cosa fondamentale. Perciò gli artisti e le agenzie degli artisti stanno scegliendo di venire a Eboli rispetto ad altre strutture concorrenti. Poi negli ultimi anni abbiamo allargato questa struttura di appendimento e per finire a maggio abbiamo fatto delle nuove vie di esodo per una maggior sicurezza, per venire incontro ai maggiori standard di richieste di sicurezza, una nuova serie di uscite dal campo da gioco centrali che permettono un deflusso ancora più veloce di quello che già era caratteristico della struttura. È un connubio che si è rafforzato di molto anche grazie alla collaborazione con Salvatore Condaldo nell'avere questa importante struttura che ci consente di poter avere oggi i grandi concerti che prima non si potevano avere a Palasele di Eboli. A questo aggiungiamo anche i nostri investimenti, abbiamo fatto già il lavoro di ammodernamento, anche in collaborazione con Anni 60 dove è nata una piena e totale sinergia e che questi tre mesi in otto concerti fa capire quanto ormai Eboli è a centro del Mezzogiorno d'Italia come punto di riferimento. Aggiungiamo poi anche gli altri interventi di ammodernamento che faremo per questa struttura in vista delle università e anche dal punto di vista dello sport, il Palasele è diventato e diventerà sempre di più un punto di riferimento.